Una coppia alle prese con i lavori di ristrutturazione, tra muratori che si piazzano in casa più del dovuto e litigi per gli strampalati consigli dell'architetto. E questo è il tema di come sopravvivere ai lavori in casa, la commedia scritta e interpretata da Michele Caputo, con la regia di Paolo Migone, andata in scena al Teatro Zonavonero di Napoli. Come sopravvivere ai lavori in casa è una divertente commedia che mette sotto la lente di ingrandimento un rapporto a due e gioca con il tema dell'incomunicabilità e delle incomprensioni di coppia, portando in scena tutta una serie di situazioni paradossali. Ma dove sei, scusami? Eh, non lo so, il castello, il mare... Ma sei il castello a mare? Ma non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio... E Iuri Monaco, l'operaio dalle mille risorse. Ma lo sapete che la mi sono svegliata stamattina? Ma lo so, perché ora? Alle cinque o un quarto! E chi ha fatica a me giù? Il ricavato di una delle serate è stato devoluto all'Associazione Nida, nazionale italiana dell'amicizia, per la costruzione di una nuova medicheria in un reparto pediatrico ospedaliero. Dopo due anni di successo in giro nei teatri della città, Michele Caputo ha deciso di riproporre lo spettacolo a zona Vomero, lo spazio teatrale da lui diretto, che ospita una programmazione sempre diversa di eventi, serate musicali, spettacoli teatrali e cabaret. Grazie a tutti!